Ben trovati gentili telespettatori, edizione del Veneto orientale in apertura, subito andiamo sul litorale a Jesolo perché da qui arriva l'allarme da parte di Union Mare che chiede più attenzione per il settore che sta attanagliando appunto il balneare, più attenzione perché ci sono diversi problemi all'orizzonte, da qui appunto la richiesta di prestare più attenzione. Sentite il servizio d'apertura del nostro telegiornale. Riproponiamo questa giornata di mobilitazione ma che è una giornata poi di festa per tutti i balneari per sensibilizzare quelli che sono ormai per noi i problemi che ci attanagliano da tantissimi anni. In quest'ultimo periodo siamo riusciti con il lavoro nostro, dell'associazione e della politica a portare a casa per fortuna una proroga di 15 anni che ci permette di poter ancora sperare in un futuro migliore. E' chiaro che quello che è l'ambizione che noi operatori di spiaggia e imprenditori del balneare abbiamo è quella di riuscire a dare al nostro settore una riforma organica perché per troppi anni purtroppo siamo costretti a lavorare nell'incertezza e questo sicuramente non ci aiuta. Il Veneto continua a fare la sua parte e ricordiamo che la nostra regione ha il primato delle presenze turistiche a livello nazionale e di questo primato il comparto balneare ha una fetta molto molto importante. E quindi noi siamo qua a continuare a portare avanti le nostre istanze perché i balneari del Veneto da sempre si sono contraddistinti non solo nel qualificare la propria offerta turistica ma anche nell'interagire con le amministrazioni comunali, con le amministrazioni regionali. E quindi portiamo avanti quelle che sono tutte le buone pratiche che hanno qualificato fino a qua l'opera di tutto il comparto balneare che caratterizza la costa veneta. E' una stagione non semplice, partita in salita perché le condizioni meteo purtroppo non ci hanno sicuramente agevolato però poi a giugno che il tempo si è sistemato siamo state una delle poche regioni che ha chiuso con il segno positivo. Siamo qui nelle splendide località della costa veneta a cercare di dare sempre le migliori risposte per far sì che i nostri turisti possano trascorrere delle giornate incantevoli sulle nostre spiagge. E ora parliamo invece di un problema della Conf artigianato. Gli artigiani a quanto pare stanno segnando un nuovo problema legato all'andatura del settore e un po' dell'economia nazionale. Il presidente della Conf artigianato del Veneto orientale Martini dice che nel 2018 c'è stata una nuova perdita di aziende. Sentiamo l'esclusiva intervista di Aldo Cruterelli. Siamo in compagnia di Sino Martini, presidente della Conf artigianato del Veneto orientale, nonché vicepresidente della Camera di Commercio Venezia, Rovigo. Parliamo un po' del nostro territorio del Veneto orientale. Ci risulta così dalla stampa un po' dalle informazioni che le aziende artigiane stanno diminuendo piuttosto che aumentando. Come sta andando questo territorio rispetto al mondo artigianale, al mondo produttivo e quali prospettive potrebbe avere questo territorio? Una domanda a cui trovare una risposta non è facile. È vero, partiamo dalle cose più semplici, è vero che il numero di imprese artigiane diminuisce ormai da un po' di anni. Si stava in realtà rallentando questa decrescita e nel 2018 invece ha avuto un altro piccolo picco in aumento, cioè è ritornato su di un punto percentuale sempre in negativo. Ci sono alcune motivazioni che vanno al di là di quello che è l'andamento economico e sono un po' dovute a ristrutturazioni aziendali. Ormai è sempre più difficile per come proprio si sviluppa l'imprenditoria, l'impresa individuale. Fa sempre più fatica a rimanere sul territorio, a rimanere attiva e quindi c'è una contrazione di queste. Teniamo presente che il mondo dell'artigianato, l'impresa individuale, cioè il monoimprenditore, definiamolo così, incide in maniera rilevante perché parliamo sicuramente sull'ordine del 50% e questo non è solo limitato al territorio, ma sicuramente può astendersi a tutto il territorio della città metropolitana. Quindi questi noi magari arrivano al pensionamento oppure si accorpano, si integrano in altre aziende e quindi fanno diminuire il numero di imprese attive perché tali sono considerati. Ed è vero, dall'altra parte, che c'è poca voglia di fare l'imprenditore. Quindi quando una di queste chiude, automaticamente non viene istituita da un giovane imprenditore perché, e questa è la domanda più interessante a cui rispondere, perché c'è questa difficoltà o incapacità o non volontà di fare impresa? Perché purtroppo fare impresa è diventato anno dopo anno sempre più difficile. Ormai alcune ricerche lo dicono, ma è inutile citare continuamente i dati perché ormai i dati ci fanno conoscere il problema ma finora non siamo mai riusciti a risolverlo quindi bisognerebbe adesso impostarci sulla risoluzione del problema i dati ci dicono che l'appresentimento burocratico del nostro paese invece di diminuire continua ad aumentare e più è piccola l'azienda questo appresentimento si fa sentire e arriva, oltre ad aggravare i costi, purtroppo anche arriva a nauseare e quindi a scoraggiare chi sta già facendo impresa o chi vorrebbe farla. E qua è il primo grosso passo assolutamente da fare. La semplificazione e capire che le norme vanno fatte per aiutare chi vuole fare impresa e non per impedire chi vuole delinquere, per la delinquenza c'è la magistratura le norme invece di sviluppo devono essere fatte semplici, sicure in modo che sia facile da interpretare e facile da applicare. Altrimenti non invertiremo mai questa tendenza. Ad Annone Veneto il sindaco Luvison dice che l'amministrazione comunale è pronta a partire con importanti opere anche per completare quelle volute dalla precedente amministrazione comunale. Sentite l'intervista al sindaco. Siamo con Luvison Victor, sinneo sindaco di Annone Veneto. Lei sicuramente ha trovato alcuni problemi che riguardano sia Annone Veneto ma riguardano anche un territorio, il portugarese, ma soprattutto anche i rapporti visto che siamo in un'area dei confine con la vicina Friuli Venezia Giulia. Ecco, questa sua prima entrata, quali problemi ha trovato importanti? Ma come problemi diciamo sono i problemi e le cose che ci sono da ultimare che ha lasciato la precedente amministrazione, che ha fatto un buon lavoro e che io sono pronto a cogliere e cercare di portare il meglio che posso io e la mia nuova amministrazione. Ecco, uno dei problemi che è già da un paio d'anni che si discute qui nel portugarese è il problema dell'LT Acqua. Lei, come Annone Veneto ha il magazzino, aveva anche la sede dell'Aquadotto e l'ivenza tagliamento allora, ci sono alcuni problemi, ecco lo abbiamo qui ci può spiegare un po' ai cittadini che sentono, leggono sul web ma non capiscono esattamente cosa effettivamente sta succedendo? Beh, spiegare qui velocemente in questa fiera è un po' problematico comunque l'LTA ha un suo piano industriale da portare avanti ce lo ha spiegato già in due riunioni, anzi il Presidente è venuto a trovarmi personalmente in comune, ne abbiamo discusso, mi ha dato delle rassicurazioni della tenuta qui dello sportello LTA e io perseguirò questa strada per fare tutto il possibile affinché questo resti un punto di riferimento per i nostri cittadini. Ecco, un altro vostro problema è lo spostamento del casello di Sanstino che per il fatto che fanno la terza corsia deve essere spostato e sembrerebbe che una delle tante ipotesi sia quello di spostarlo al confine con Annone Veneto, non con, ma comunque in territorio di Annone però con l'uscita a Sanstino, qui avete qualcosa da dire voi? Ma qui diciamo per me come neosindaco è una cosa nuova sono stato due mesi fa convocato dall'autovia Venete ne abbiamo discusso e abbiamo promesso di rincontrarci a settembre lei lo vede come un problema, io lo vedrei anche come un'opportunità sapendoci lavorare bene e studiandoci sopra Ecco anche perché poi per Sanstino magari a qualcuno richiede qualche problema a voi a Annone Veneto ne avete qualche vantaggio bisognerà trovare un accordo che in linea di massa possa andare bene a tutti e due Sì, la cosa non è semplice, però nelle nostre idee quello che andremo a proporre sarà per noi una bella prospettiva, una bella cosa da affrontare e da prendere in mano insomma E a Caorle è arrivato anche il direttore generale dell'azienda sanitaria Bramezza per vedere questa esercitazione in cui si è messa in evidenza la sicurezza per chi arriva in vacanza sul litorale non solo di Caorle ma di tutto il Veneto orientale voluto dalla stessa azienda sanitaria e dalla regione proprio per dare un segnale forte e comunque un servizio importante per chi arriva in vacanza in questa parte d'Italia quello che magari in altri lini internazionali non c'è, l'emergenza urgenza che qui viene davvero affrontata con la massima professionalità Sentite le parole del direttore generale Bramezza Una grande squadra composta dal tutto personale del 118, dei pronto soccorsi dei punti di primo intervento aziendale assieme al 118 di Mestre assieme al 118 di Treviso che mette a disposizione l'elicottero noi garantiamo la sicurezza per tutti coloro che vogliono venire a passare una vacanza qui a Caorle in questa bellissima spiaggia così come in tutte le spiagge della costa della nostra regione Veneto abbiamo voluto fare questa dimostrazione come la stiamo facendo in tutte le altre spiagge perché è molto gradita ai turisti vedere come è veramente una macchina efficiente che dal mare può salvare benissimo una vita e in difficoltà la può portare in un ospedale per fargli riprendere al più presto la vacanza Nei 57 km di costa che vanno da Bibione, quindi dalla foce del tagliamento a Punta Sabbioni abbiamo quasi 24 milioni di presenze turistiche oltre ai residenti ai quali dobbiamo anche in estate come tutto l'anno dare assistenza poi ci sono tutti coloro che hanno la seconda casa e tutti coloro che vengono in giornata milioni e milioni di persone a cui dobbiamo dare assistenza e sicurezza lo facciamo attraverso i nostri punti di primo intervento, ogni 15 km in questa costa abbiamo un pronto soccorso, attraverso i nostri ospedali San Donato e Portogluaro attraverso la nostra rete ospedaliera regionale e attraverso la regione Veneto che ogni anno mette a disposizione della nostra azienda milioni di euro proprio per aumentare il personale, acquisire nuovi medici, infermieri, nuove ambulanze per tutto il periodo estivo, proprio perché queste sono le vacanze più sicure che possono essere garantite a tutti i cittadini europei che vogliono venire al mare nelle nostre spiagge E a Portogluaro invece, un nostro collaboratore aveva iniziato un libro sulla storia del Portogluaro Calcio, poi purtroppo lui si è spento ma la sua straordinaria idea di scrivere quel libro sui Granata non è andata dimenticata, anzi è stato presentato questo libro Ci spiega tutto Aldo Cortarelli Siamo in compagnia di Giorgio Vitt, lei è coordinatore di un gruppo di tifosi del Portogluaro Calcio che hanno realizzato negli anni un volume I cento anni di calcio a Portogluaro un volume iniziato con l'amico comune, in questo caso Venturin il quale è scomparso, però col quale voi avete lavorato già prima e avete iniziato questo libro Adesso lo presenterete ufficialmente il 28 di settembre ma intanto avete alcune iniziative, tra cui una il 31 di agosto con una mostra fotografica. Può spiegarci un attimino le motivazioni per cui avete fatto questo libro e quali sono in linea di massima i prossimi appuntamenti? Sì, abbiamo iniziato a lavorare all'inizio del 2015 appunto ho chiesto la collaborazione di Antonio Venturin che lui era un esperto, diciamo, perché ha fatto diversi libri sulle società sportive qua del Portogruarese e lui con la sua generosità mi ha detto subito di sì che si metteva a disposizione e quindi abbiamo iniziato a lavorare ci trovavamo il sabato mattina, raccoglievamo documentazione Venturin, Antonio aveva dei contatti con un editore che aveva appunto fatto il libro nel 2004 degli 85 anni del Portogruaro Calcio e poi purtroppo nel novembre del 2015 il professor Venturin è venuto a mancare e quindi ci siamo un po' sentiti con il gruppo abbiamo detto cosa facciamo, continuiamo ma avevamo voglia di continuare anche per rendere omaggio per non intaccare il lavoro che era stato fatto da Antonio fino a quel momento e quindi abbiamo trovato altri collaboratori con Vincenzo Zollo, V-System, con il grafico Latte Bianco con Edoardo Collovini che ci ha scritto i testi e soprattutto la figura importante per noi è stata Antonio Michelon che lui ha tutta la documentazione, archivia tutta la documentazione del Portogruaro Calcio settimana per settimana quindi per noi ci è stata fondamentale abbiamo intervistato in questi anni vari giocatori, vari dirigenti abbiamo raccolto documenti, foto e quindi abbiamo deciso che queste foto che alcune le vedete nel libro le esporremo nella sala delle colonne del municipio di Portogruaro il giorno 31 agosto la mostra resterà aperta fino a tutto settembre quindi dopo la presentazione del libro chi vuole vedere la mostra appunto se non può essere presente all'inaugurazione il 31 di agosto alle ore 18 tutto il mese di settembre è disponibile presso la sala delle colonne ecco il 28 di settembre però fate una manifestazione più importante è una manifestazione importante che lui è il 28 di settembre al Teatro Russolo ci è stato concesso gratuitamente dal comune di Portogruaro che ringrazio inizieremo con un convegno sul tema del calcio di ieri, oggi e domani parleremo appunto di calcio di calcio passato, di calcio presente, di calcio futuro e ci sta dando una mano per i relatori Mauro Gibellini che è stato un giocatore importante sia del Portogruaro sia di altre squadre importanti nazionali lui ha contatti con vari allenatori con vari giocatori per cui ci potrà portare senza altro qualche persona qualificata poi abbiamo appunto la presentazione del libro nel frattempo tra il convegno e la presentazione del libro faremo vedere il DVD che poi allegheremo al libro con i momenti salienti del calcio portogruaro e poi alla fine ci sarà l'inno che è stato composto da Don Lino Pigatto grande tifoso del portogruaro calcio e che sarà cantato da un coro diretto da maestro Michele Bravin Gli scatti dal territorio come Inizio Scortegagna arriva a Foto Reporter Grazie a Venizio Scortegagna a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale i nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24 ci ritroveremo con le altre news rimanete con noi Grazie a tutti